Ti ho fatto richiamare perché Noemi ha detto che ha visto sul tuo profilo Instagram le foto di pizza di Formentera. Quindi? 28 anni, mi diverto, mi godo la mia vita, ma lo faccio con serietà. E questo che vuol dire? Che io non lo faccio con serietà? Fammi capire. Questo che vuol dire? Che io non lo faccio con serietà? Io guarda, a parte che è l'importanza che mi sento... Non è che se tu dici fino a lui, io sono una di carattere, vuol dire che io non ce l'abbia? Perché tu non mi conosci proprio, tesoro mio. No, guarda, a me non interessa nemmeno conoscerti. Non mi viene a dire se è bello, se è bravo, io mi voglio sposare. Cioè, sorella, ma anche meno. Sorella, non ti piacerebbe. Io, l'importanza che tu mi dai non te la do, cioè io il tuo profilo non nemmeno sculciato. A me sicuramente interessa lui, quindi voglio vedere. Con lo suo sì, con lo suo sì, dalla mattina alla sera, è suo o no? Perché a me non interessi tu nella vita. Se io pubblico la foto... Ma che ti pensa? Non mi risulta, non mi risulta le telecamere parlano. Comunque, se io pubblico una foto con un c***o di fuori, a 28 anni, su Instagram, non ci vedo niente di male. Dico, sai quante mamme a 40 anni lo fanno? Quindi perché io ho 28 o no? Ma che c'entra ora la foto? Questo non significa che io non sia una persona. Ma che stai dicendo? Che c'entra la foto ora? Fammi capire. Ma tu lo sei bene. Tu lo sei bene. Starai bene tu. Eh certo. Starai bene tu. Sicuramente. Grazie. 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 Grazie.